Si è svolto all'Aurum di Pescara il progetto conclusivo Vivere Insieme di cui parla la Presidente dell'Associazione Cosma Tiziana Arista. Un progetto finanziato dalla Regione all'interno del Fondo Nazionale per il Terzo Settore, un progetto che abbiamo realizzato insieme all'altra associazione che nel territorio di Pescara e Chieti si occupa di salute mentale, percorsi. È anche l'occasione per oggi quella di incontrare i direttori dei centri di salute mentale della provincia di Pescara e dell'area di Chieti, l'assessore al Comune di Pescara alle disabilità, l'assessore al Comune di Chieti all'inclusione sociale e il Presidente del Centro di Servizi per il Volontariato dell'Abruzzo. Era un obiettivo a cui lavoravamo da molto insieme a Eugenio Di Caro, il Presidente di Percorsi, perché solo se si riesce a costruire una rete tra enti pubblici, quelli che si occupano del sanitario e quelli del sociale e associazioni del terzo settore, si riesce a dare l'impulso necessario alle politiche per la salute mentale nel territorio che hanno bisogno in Abruzzo, nel nostro territorio, di forti miglioramenti.